guardate qua una bevanda veramente buona estiva mia la mia bevanda caffè zero proteica se volete vedere come preparata vente con me così la facciamo assieme dai su, andiamo a prepararla con lo yogurt latte scremato un cucchiaino di stevia e con lo shaker se non avete lo shaker usate invece il frullatore allora per preparare il caffè zero a casa è facilissimo queste sono due tazzine di mocha di caffè 80 ml di latte scremato poi questi sono 130 grammi di yogurt greco magro 4 cubetti di ghiaccio, andiamo a mettere in un shaker ho messo il ghiaccio e il caffè ho aggiunto il latte e adesso vado ad aggiungere lo yogurt e per ultimo dopo che ho messo anche lo yogurt aggiungo soltanto un cucchiaino di stevia o la stevia o il miele o lo zucchero di canna questo è il caffè zero proteico se non avete lo shaker lo frullate vado a shakerare bene bene poi la liquidità e la densità del caffè zero dipende poi anche dal ghiaccio che andiamo a mettere voilà vedete questo è il mio caffè zero volendo si può aggiungere ancora un cubetto di ghiaccio dentro voilà ne vengono fuori due bicchieri e ho messo ancora due cubetti di ghiaccio dentro se vi è piaciuta questa idea mi raccomando fatemi sapere nei vostri commenti iscrivetevi al mio canale e seguitemi anche su facebook e instagram ciao alla prossima